Ciao, il messaggio che voglio condividere insieme a voi oggi ha come titolo la scommessa o anche scommettiamo e dunque vorrei iniziare parlandovi di un personaggio, un personaggio conosciuto da molti dal nome Pascal. Pascal intorno al 1650 ha un cambiamento nella sua vita, lui era solitamente un illuminista, quindi una persona che era nata in un contesto culturale che era avverso alla fede. In realtà appunto intorno al 1650, precisamente nel 54, fa un'esperienza, un'esperienza che cambia la sua vita e allora vuole dedicarsi a tutto ciò che è religioso, spirituale e inizia a scrivere una raccolta, una apologia, una difesa del cristianesimo. Purtroppo morirà prima di terminare questi scritti che poi verranno raccolti in un'opera chiamata i pensieri. E in una di questa apologia, quindi in una di questa difesa del Vangelo, lui la nomina e la scommessa, ovvero crea una scena, racconta una storia nella quale spiega il perché sarebbe da stolti non credere in Dio e vivere una vita senza Dio. E parla di una scommessa. Molto semplicemente, quante cose nella nostra vita possono essere paragonate oppure sono a tutti gli effetti una scommessa? Personalmente nella mia vita ho fatto alcune scelte nelle quali io non sapevo le estreme conseguenze e quindi mi sono dovuto affidare, affidare a Dio. Altri preferiscono affidersi al caso, alla sorte e quindi scommettono. C'è una scommessa, scommettiamo, vediamo come va. Dunque ogni scommessa nella nostra vita può essere sostanzialmente racchiusa in tre variabili. La variabile numero uno è la probabilità della vincita, ovvero quanto è probabile vincere questa scommessa. Variabile numero due è il rischio coinvolto, ovvero cosa devo perdere o quindi cosa devo spendere per poter entrare e partecipare in questa scommessa. Punto numero tre è la grandezza della ricompensa, ovvero quanto è grande questa ricompensa. Andando con ordine, qual è la probabilità di vincita insita nel Vangelo? Leggiamo nel Nuovo Testamento in Giovanni 3, versetto 16, perché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Giovanni sta scrivendo che chiunque crede in lui, quindi non in Giovanni ma in Dio, in Gesù, ha la vita eterna. Quindi la probabilità di vincere è collegata ad avere la capacità di credere. Ditemi, chi di noi non possiede la capacità di credere in qualcosa. Pensate, anche chi di noi non crede in Dio comunque crede in qualcosa, ha dei valori, crede nella famiglia, crede nello Stato, crede nella politica, forse crede nell'esercito o forse crede semplicemente nell'amicizia. E allora ognuno di noi ha la capacità di credere, quindi in questo caso la probabilità di vincere è il cento per cento, ovvero chiunque crede, quindi chiunque ha la capacità di credere, quindi tutti possono vincere per avere la vita eterna. Variabile numero due abbiamo detto, la grandezza della ricompensa, la vita eterna. Ora esiste una ricompensa più grande della vita eterna? Esiste una ricompensa maggiore di qualcosa che per definizione è infinito? No. Quindi la grandezza è infinita, eterna. Quindi abbiamo detto, variabile numero uno, tutti hanno la capacità di credere, quindi tutti possono accedere e quindi la probabilità è il cento per cento perché tutti hanno la capacità di credere. Punto numero due abbiamo detto, la grandezza è eterna, ovvero la vita eterna. Punto numero tre, e qui è il punto forse più dibattuto, è il rischio. Qual è quella cosa a cui io debbo rinunciare per poter entrare a far parte della scommessa del Vangelo? Il rischio coinvolto, ovvero cosa debbo perdere. Ora, per definire qual è questo rischio coinvolto è necessario che noi rispondiamo a una domanda. È possibile dimostrare che la vita di un credente sia quantitativamente o qualitativamente inferiore a quella di un non credente? Ovvero è possibile dimostrare che chi crede in Dio perde qualcosa in termini di lunghezza o in termini di qualità della vita? In Luca 18, Nuovo Testamento, Gesù racconta un episodio, un episodio molto particolare di un incontro fra Gesù e un giovane, un giovane ricco. Questo giovane ricco va da Gesù e gli pone una domanda, una domanda che probabilmente avremmo posto anche noi a Gesù. Cosa debbo fare per avere la vita eterna? Gesù risponde a questo giovane, questo giovane non è contento della risposta di Gesù e se ne va triste, perché Gesù sostanzialmente gli dice vendi tutto ciò che hai, dallo ai poveri e poi seguimi. Questo giovane era molto ricco, guarda con molto deluso Gesù e se ne va. Nella Bibbia è scritto che Gesù ama questo giovane, ancora prima di vedere questo giovane arrivare. Ed ecco che Pietro, uno dei primi discepoli, va da Gesù, ascolta, vede questa scena, vede questo ricco che se ne va. Sapete, nella mentalità di quel tempo, una persona ricca era una persona benedetta da Dio. Quindi questo giovane era benedetto perché era uomo, quindi era un maschio, e a quel tempo essere maschio era una benedizione. Era benedetto due volte perché era un giudeo, quindi poteva essere un gentile, quindi un non giudeo, ma in realtà era un giudeo, quindi era benedetto due volte. Ma era benedetto anche tre volte perché era anche ricco, quindi era benedetto tre volte perché era uomo, perché era giudeo e perché era ricco. Quindi era il candidato ideale per entrare nel regno di Dio. E invece Gesù gli dice vendi tutto ciò che hai, quindi rinuncia a quella tua benedizione per seguire me. Un'assurdità per quel tempo. Pietro ascolta questo, i discepoli sono scioccati da questa rivelazione. Eh sì, perché le risorse finanziarie di quel giovane sarebbero potute servire per l'avanzamento dell'opera. Allora Pietro si avvicina a Gesù e nel versetto 28 dice, allora Pietro gli disse, e noi? Noi abbiamo abbandonato tutto quel che avevamo per venire con te. In Matteo, che riporta lo stesso episodio, è scritto, che cosa dobbiamo aspettarci? Ovvero che cosa abbiamo in cambio? Che cosa ne riceveremo in cambio? Perché noi abbiamo rinunciato a tutto. Vedi, questo giovane non ha voluto rinunciare alla sua ricchezza e se n'è andato. Ma noi abbiamo rinunciato alla nostra barca, sì perché Pietro era un pescatore. Abbiamo rinunciato quindi alla nostra carriera per seguire te, Gesù. Che cosa ci darai in cambio? Nella Bibbia è scritto Gesù. Si volse ai suoi discepoli e rispose, io vi assicuro che se qualcuno ha abbandonato casa, moglie, fratelli, genitori e figli, e io aggiungerei anche carriera, io aggiungerei anche qualunque cosa abbiate voi in mente, la potete inserire in questa lista. Quindi chiunque, ripeto, ha abbandonato casa, moglie, fratelli, genitori, figli, carriera per il regno di Dio, costui riceverà molto di più in questa vita. In Matteo è scritto, riceveranno cento volte di più in questa vita e nel mondo futuro, la vita eterna. Gesù quindi sta dicendo, riceveranno non solo la vita eterna, ma riceveranno qualcosa qui, oggi, adesso, in questa vita. È questo il messaggio rivoluzionario di Gesù. Spesso l'immagine di questa ricchezza nell'aldilà ci è stata trasmessa con questo messaggio. Rinuncia a qualcosa di bello, di piacevole in questa vita, rinuncia sempre a bere, rinuncia a fumare, rinuncia a una vita con tante donne o con tanti uomini, rinuncia a questo perché un domani nell'aldilà allora sì che starai bene. Ma non è questo il messaggio che vuole dare Gesù. Gesù dice che ha rinunciato a queste cose per me e per il mio messaggio, per il Vangelo, riceverà cento volte di più in questa vita e la vita eterna. Quindi, ritornando alla domanda, qual è il rischio nell'entrare in questa scommessa del Vangelo? Il rischio è zero. Perché? Perché entrando in questa scommessa noi riceviamo subito la nostra vittoria. Adesso la ricompensa la riceveremo in questa vita e la vita eterna. In sostanza noi vinciamo sempre. Ricapitolando, le probabilità di vincita sono il cento per cento perché chiunque ha la capacità di credere in Dio. La grandezza della vita eterna è infinita, non esiste premio più grande. Terzo, a cosa dobbiamo rinunciare? Per poter entrare in questa scommessa non rinunciamo a nulla, perché anche se noi rinunciamo a qualcosa, Dio ci darà cento volte di più di quella cosa in questa vita. Probabilmente non ci darà il nostro hobby, la nostra passione che ci legava in questa vita, ci darà qualcosa di meglio. Ellen White nella Via Migliore, in pagina 43, scrive, in realtà cosa abbandoniamo quando rinunciamo a tutto? Ecco a cosa rinunciamo, un cuore contaminato dal peccato affinché Gesù lo purifichi con il suo sangue e lo salvi grazie al suo incomparabile amore. Nonostante ciò, si pensa che sia difficile rinunciare a tutto. Mi vergogno di sentire e di scrivere una cosa simile. E adesso vorrei che vi concentraste su questa frase. Dio non ci chiede mai di rinunciare a qualcosa che è per il nostro bene, perché tutto ciò che fa è nell'interesse dei propri figli. Quindi in realtà a cosa rinunciamo? Quando Dio ci chiede di rinunciare a qualcosa per seguirlo, in realtà ci sta chiedendo di rinunciare a qualcosa che è dannoso per noi, a qualcosa che ci porterà ad una strada. E questa strada viene scritta chiaramente nella Bibbia, viene descritta come il salario, la conseguenza di una vita lontana da Dio è la morte. Dio non ci chiederà mai di rinunciare a qualcosa che è nel nostro interesse. Quindi quando noi pensiamo, beh, ho dovuto rinunciare, ho fatto un sacrificio, in realtà noi non ci rendiamo conto di ciò che stiamo dicendo. Perché Dio in realtà vuole solamente darci, non vuole privarci di nulla. Pensateci, tutto ciò che abbiamo, l'aria, la vita, l'amore, la natura, tutto viene da Dio. Sarebbe assurdo pensare che Dio voglia privarci di qualcosa di buono. In Matteo 13 c'è una parabola, una storia. È scritto, il regno dei cieli è simile a un tesoro o un assosco nel campo, che un uomo dopo averlo trovato nasconde e per la gioia che ha va e vende tutto quel che ha e compra quel campo. Quindi immaginate questo uomo che lavora in questo campo, il campo non è suo, all'improvviso mentre lavora con il suo aratro probabilmente, trova qualcosa, qualcosa che luccica nella terra. Si abbassa, coglie questa pietra, se la porta ai denti e la prova, la pulisce e vede che è oro. Ebbene, nell'antichità non c'erano le banche e quindi molti ricchi usavano nascondere le loro ricchezze, il loro tesoro nei campi. Ma a volte succedeva che per guerre, oppure per qualche omicidio, oppure per qualsiasi altra catastrofe naturale, questo tesoro venisse smarrito. E quindi si dimenticava anche l'ubicazione del campo. Questo uomo sapeva questo e quindi mentre lavora, questo povero uomo lavora perché il campo non è neanche suo, si accorge che in quel campo probabilmente c'è nascosto un grande tesoro. Trova questa moneta, si guarda intorno, nessuno l'ha visto e allora corre in casa, raccoglie tutto ciò che ha e lo va a vendere. Pensate cosa potranno mai aver detto i suoi familiari. È pazzo. Vuole vendere tutto ciò che ha per comprare un campo che non ha valore? Ebbene, lui in realtà lo fa. Lo fa perché ha visto qualcosa in quel campo, qualcosa che gli dice che in quel campo c'è un tesoro inestimabile. Ebbene, parlando di valore, vorrei definire bene che cos'è questa parola valore. Ebbene, di valori ne esistono sostanzialmente due. Esiste un valore di mercato, detto valore di scambio, e un valore naturale. Allora, il valore naturale è quel valore che è intrinseco all'oggetto. Cioè, ovvero, se noi togliamo qualcosa dall'oggetto, noi priviamo l'oggetto di quel valore. Quindi, il valore naturale è un valore che è talmente connaturato all'oggetto che non possiamo toglierglielo. Non lo possiamo togliere. Un esempio? L'acqua. L'acqua ha un valore di per sé, molto alto è inestimabile. Noi non possiamo alterare l'acqua. Se noi alteriamo l'acqua, alteriamo il suo valore. Quindi, quello è il suo valore naturale. Ma questo concetto di valore c'è un po' estraneo. Noi capiamo bene, invece, il concetto di valore di scambio, anziché detto valore di mercato. Ovvero, il valore di mercato ci dice che niente ha valore di per sé, ma il valore nasce dalla relazione fra due o più prodotti. Faccio un esempio, sempre riferendomi all'acqua. Se io ho una bottiglia d'acqua e mi trovo vicino a un lago, la mia acqua ha un valore pressoché nullo. Perché? Perché il lago è pieno d'acqua, acqua potabile. Se invece io mi trovassi nel deserto, quanto valore acquisterebbe la mia acqua? Molto di più. E dunque, il valore di scambio è un valore che nasce da questa relazione. Ovvero, è un valore che nasce dalla domanda, cosa tu mi dai in cambio per avere quest'acqua? Ovvero, quanto vale quell'acqua per te? E questo valore c'è molto più naturale, c'è molto più il feeling che noi abbiamo con questo valore è molto più forte. Perché? Perché viviamo in un'economia di mercato. Ora, secondo noi, qual è il valore di un uomo? Qual è il valore della nostra vita? I diritti fondamentali ci dicono che la vita umana ha il valore più alto, più elevato. Eppure, se noi guardiamo il mondo intorno a noi, ci accorgiamo che la schiavitù esiste. Persone vengono vendute e comprate. Quindi, se noi ponessimo la stessa domanda in giro nel mondo, ci accorgeremo che ognuno di noi ha un'idea diversa di valore. quanto vale un uomo per te? Quanto vale un uomo per te? Forse per uno schiavista un uomo vale mille euro. Per un'altra persona probabilmente non ha valore. Per un'altra ancora vale 50, 100 euro. O forse vale un sacco di patate, perché in quel momento lui ha fame. Quindi, qual è il nostro valore? Sapete, spesso la vita ci attacca. Ci attacca e intacca la nostra autostima. Spesso la famiglia, gli amici intorno a noi, il nostro coniuge, ci fa sentire come se noi fossimo senza valore. Come se non avessimo un nostro valore. E allora anche noi stessi iniziamo a trattarci come qualcosa di poco valore. Ma nella Bibbia è scritto quanto valiamo. Lo troviamo nel Nuovo Testamento, in Prima Pietro 1, versetti 18 e 19. Leggo. Voi sapete come siete stati liberati da quella vita senza senso che avevate ereditato dai vostri padri. Il prezzo del vostro riscatto non fu pagato in oro o argento, cose che passano. Siete stati riscattati con il sangue prezioso di Cristo. Cristo ci ha riscattato con il suo sangue. Pensateci, Dio ha una vita eterna. Gesù, in quanto Dio, ha dato la sua vita, ovvero ha considerato la sua vita essere pari alla nostra. Ovvero la sua vita è diventata il mezzo di scambio. Il valore di scambio è stato la vita di Dio in cambio della mia. Il sangue di Gesù in cambio della mia vita. Capite quanto è grande il valore che Dio attribuisce alla vita umana? Quanto è grande il valore di Dio per la tua vita, per la mia vita. Quel contadino, quell'uomo che lavora nel campo può essere paragonato anche a Gesù. Sapete, Gesù viveva nel suo regno tutto l'universo, vive in armonia, senza peccato, senza dolore. Eppure c'è qualcosa che, perdonatemi l'espressione, non fa dormire la notte Gesù. C'è un piccolo mondo intorno alla Via Lattea, in quella piccola galassia, che non va. C'è quel piccolo campo che sarebbe il nostro pianeta Terra, quel campo che agli occhi dell'universo non ha valore perché il nostro pianeta in realtà è una piccola puntina nell'universo. E allora che cosa ha fatto? E allora è sceso, è sceso ed è venuto a vendere tutto ciò che aveva di più prezioso, perché ha visto che in mezzo a quella terra sporca c'era qualcosa che luccicava. Quella moneta sei tu, quella moneta sono io. A volte coperta da una vita fatta di sbagli, di scelte cattive, di fango che hanno sporcato la nostra anima. Gesù è venuto, ha raccolto la nostra vita e l'ha giudicata talmente di grande valore da paragonarla alla sua. E allora è andato, ha venduto tutto ciò che aveva, il suo sangue, la sua vita, per acquistare questo campo, per acquistare me e per acquistare te. Ora qualcuno potrebbe dire, beh ma la mia vita sicuramente non vale la vita di Gesù, perché io sono un uomo, sono una donna di poco conto, io neanche credo in Dio. Quindi Dio si è fatto male i conti, è morto in vano, perché io probabilmente non l'accetterò mai, io non valgo. Questo perché probabilmente la vita ci fa sentire come se noi non valessimo nulla. A volte anche la famiglia, i nostri cari, i nostri coniugi possono farci sentire come un uomo, una donna di poco valore. E allora anche noi iniziamo a trattarci come qualcosa di poco valore. Nella Bibbia invece ci viene ricordato che noi abbiamo un grande, un alto valore, talmente alto che in Prima Pietro, in versetti 18 e 19, ci viene ricordato che noi siamo stati riscattati con il sangue di Cristo. In Romani 5, versetti dal 7 all'8, è scritto è difficile che qualcuno sia disposto a morire per un uomo onesto. Al massimo si potrebbe forse trovare qualcuno disposto a dare la propria vita per un uomo buono. Cristo invece è morto per noi quando eravamo ancora peccatori e questa è la prova che Dio ci ama. Dio non ci chiede di essere perfetti, Dio è venuto ad amarci prima mentre noi gli voltavamo le spalle. E Dio ha visto giusto nel salvare me e nel salvare te. Ha visto giusto perché Dio sa già ogni cosa. Dio sa che quel suo sacrificio, quel sangue che ha versato, sarà ripagato dalla mia gioia e dalla tua gioia nell'eternità, nel vivere insieme a Lui per l'eternità. Ebbene, quando la vita ti fa sentire come qualcosa di poco conto, ricordati che per Dio tu hai un grande valore, talmente grande da paragonarlo alla sua vita. È qualcosa che io non concepisco appieno. Com'è possibile che la vita di un essere umano possa valere così tanto? Perché se mi guardo intorno a me vedo che la vita degli uomini viene spesso trattato come qualcosa di poco conto. Ricordati dunque che in questa scommessa, questa scommessa nel credere in Dio, questa scommessa del Vangelo, Dio ci ha trattato come qualcosa di talmente di grande valore che è stato disposto a morire. La mia preghiera, il mio invito a tutti quanti noi è questo. Nella prima parte abbiamo visto ciò che noi dobbiamo rinunciare per entrare a far parte di questa scommessa nel Vangelo. Cosa dobbiamo rinunciare? A nulla, ovvero a nulla di buono. Non dobbiamo rinunciare a nulla di positivo perché Dio non ci chiederà mai di rinunciare a qualcosa di buono. Perché Dio è un Dio che dà, non è un Dio che toglie. Nella seconda parte abbiamo visto invece ciò che Dio è stato disposto a rinunciare per noi. Dio è stato disposto a rinunciare alla servitù, all'amore, alla devozione degli angeli, a una vita perfetta, senza dolore. Gesù è stato disposto a rinunciare a quel contatto quotidiano con il Padre. Quindi Dio è stato disposto a rinunciare a qualcosa di buono per acquistare questo campo, per acquistare questa moneta sporca, per acquistare me, per acquistare te. La mia preghiera è che quando la vita ci fa sentire come qualcosa di poco valore, noi possiamo ricordarci nella nostra vita che Dio ci dà valore. Non importa ciò che tu pensi di te, non importa ciò che io penso di me stesso, perché io a volte posso sentirmi un Dio, alle volte posso sentirmi una pezza da piedi, ma per Dio il mio valore non cambia, perché Dio vede già tutto, Dio già sa tutto, Dio già sa le scelte che farò. Non sono io che posso far cambiare idea a Dio su di me, ma sono io che devo cambiare idea su Dio. Questa è la mia preghiera e il mio augurio. Amen.